Federico, un inizio di stagione davvero molto positivo. Per te è arrivata la convocazione della Nazionale del 19 e il debutto nel campionato di Serie B nell'ultima gara contro il Crotone. Sì, è un bel inizio di stagione, sono molto soddisfatto, sto lavorando abbastanza bene e sono contento. Ti trovi in un reparto molto forte con giocatori esperti, ti chiedo anche allora che cosa stai cercando di rubare qualche trucchetto magari dai tuoi compagni di reparto? Sì, ho una grande concorrenza, sono dei giocatori forti, sto cercando di apprendere il più possibile, sono ragazzi di grande esperienza e sono contento e molto soddisfatto di aver loro come compagni di reparto. Sei qui ormai da diverse stagioni, che cosa ha l'entella per te? Una grande famiglia, mi hanno accolto benissimo, sono molto soddisfatto, devo ringraziarli tutti dal primo all'ultimo, dal presidente perché mi hanno veramente accolto molto bene.